Ed ecco finalmente le tracce, al centro del tototema per la prima prova di maturità. I pronostici su cui si discute da tempo hanno preso sempre più quota, in particolare la traccia sulla Costituzione. A 70 anni dall'entrata in vigore, per molti maturandi era quasi una certezza, anche perché nell'ultimo anno le scuole, su impulso del Ministero dell'Istruzione, hanno parlato tanto della nostra carta fondamentale. Anche il tema su Aldomoro e sulle leggi razziali, dati gli anniversari e il dibattito di questi giorni, era in qualche modo atteso da studenti e famiglie. Quindi tutti e tre banchi, questa mattina per la prima attesissima prova di italiano. Tra le tracce è stata scelta quindi quella sulle persecuzioni razziali nel Giardino dei Finzi Contini, capolavoro di Giorgio Bassani, a 80 anni dall'emanazione della legge razziale. L'amore e la solitudine della poetessa Alda Merini per la prova d'arte, massa e propaganda. Anche questo, argomento attualissimo, la traccia scelta per l'ambito storico-politico. Come accennato, il principio dell'uguaglianza nella Costituzione italiana per la traccia di carattere generale, la cooperazione internazionale per il tema storico, con focus sugli statisti Alcide De Gasperi e Aldomoro, a 40 anni dal rapimento e dall'uccisione dell'esponente dell'ADC. Secondo le prime rivelazioni del Ministero dell'Istruzione, il tasso d'ammissione all'esame è stato del 96,1%, appuntamento a domani per la seconda prova scritta e poi qualche giorno di riposo fino a lunedì 25 per la terza prova scritta. Come è andata? Bene, bene. Quale tema hai scelto? Il assaggio breve di ambito tecnico-scientifico. È stato semplice? Più o meno, non era la traccia che mi aspettavo, però penso di aver fatto discretamente. Stanotte quante ore hai dormito? Non lo so, non mi ricordo. Ora hai dormito? Sì, un po' sì. E domani? Domani è la prova più difficile, speriamo bene. Quale hai scelto? Tema artistico-letterario, la solitudine della letteratura. Hai finito tra i primi, sei il quarto mi dicono. Sì, sì, perché l'ho scritto di jet alla fine, l'ispirazione è venuta sul momento, perciò nell'immediato l'ho scritto. E per domani? Per domani sarà un'altra bella storia. Quale hai scelto? Il assaggio breve, diciamo, per quanto riguarda la parte storica e politica. Quindi ho parlato un po' del passato, facendo alcuni esempi anche per quanto riguarda l'Italia, da un punto di vista prettamente politico. Stanotte hai dormito? Un pochino. Un po' la preoccupazione era tanta, però ripeto, la prima prova era un po' più per rompere il ghiaccio, diciamo, cioè non c'è fin troppa paura. Lavoro invece per la seconda prova, per la terza e soprattutto per l'orale. Quelle sicuramente saranno le notti in cui dormerò di meno, diciamo. Di che cosa hai parlato? Quindi ho parlato della propaganda nel passato e ho fatto la differenza con quella di oggi. Quindi diciamo che il complesso è andato tutto bene. E per domani matematica? Domani matematica, lì ci saranno i problemi. In linea generale è un po' più complessa. Quante ore hai dormito stanotte? Tre ore, quattro ore. Ci sono abbastanza ansia.